Trend positivo per l'andamento della criminalità nella provincia di Pesaro Rubino. I dati che riguardano i primi mesi dell'anno, da gennaio a luglio, comparati con lo stesso periodo del 2017, sono stati illustrati oggi dal prefetto Carla Cincarilli durante una riunione con il Comitato Provinciale per l'Ordine alla Sicurezza Pubblica. In particolare i reati predatori di forte allarme sociali hanno fatto registrare un decremento generale. I furti sono passati da 3.075 dello scorso anno a 2.244 nel 2018 con un calo del 27%. Le rapine invece sono passate da 33 a 27 con una diminuzione del 18%. Il totale dei delitti poi, che comprendono anche truffe, danneggiamenti, estorsioni e ricettazione, hanno subito un calo di 1.281 episodi, passando da circa 5.900 a 4.600. Questo miglioramento, ha sottolineato Cincarilli, è il risultato di un'azione congiunta di tutte le forze dell'Ordine in stretta collaborazione con le polizie municipali, che ha dato risultati particolarmente positivi proprio nel capoluogo. Ad esempio, negli ultimi sei mesi a Pesaro, nell'ambito dei 658 controlli effettuati, sono state identificate quasi 9.000 persone e controllate 4.208 vetture in uno sforzo organizzativo che si è avvalso anche di 43 servizi congiunti con il reparto prevenzione crimine della Polizia di Stato e 10 servizi in materia di droga con unità cinofile. Nel resto della provincia i carabinieri hanno perseguito più di 3.000 reati, procedendo all'arresto di 180 persone e al deferimento in stato di libertà di altri 930 soggetti. Un'attenzione particolare si è avuta anche al contrasto in materia di droga, che ha visto 10 arresti e 97 denunce, con il sequestro di 2.400 grammi di stupefacenti, 32 piante di cannabis, mentre nella città di Pesaro ha portato al sequestro di oltre 1.800 grammi di sostanze psicotrope, oltre a circa 110 segnalazioni complessive per uso non terapeutico di droghe. Importante anche il controllo della Guardia di Finanza, che con 13 interventi ha denunciato 5 persone e sequestrato altri 150 grammi di sostanze. Interessante poi l'azione di contrasto all'abusivismo commerciale e alla contraffazione dei marchi. Nell'action day del 2 agosto scorso sono state controllate oltre 200 persone con 30 sequestri di merce che hanno riguardato circa 170 beni di consumo vario e circa 2.500 oggetti di abbigliamento e accessori. Nonostante i buoni risultati emersi stamattina, i componenti del Comitato hanno convenuto che occorre comunque mantenere sempre alto il livello di guardia affinché il trend positivo venga confermato anche nei prossimi mesi. Un'attenzione particolare nell'azione di contrasto dovrà essere garantita nell'area del parco Miralfiore e della stazione ferroviaria di Pesaro. Infine il prefetto ha evidenziato la necessità di implementare l'illuminazione della statale 16 nel tratto di Sottomonte chiedendo la collaborazione dell'ANAS, proprietaria della strada, e del Comune di Pesaro per individuare soluzioni condivise.